La testa Non ti gira ancora? No Ma ti senti bene? Ora mi gira Take me now, baby, here's I am Pull me close, try and understand Desire is hunger, is the fire I breathe Love is a banquet on which we feed Come on now, try and understand The way I see you when I'm in your head Take my hand from under cover We can't hurt you now, can't hurt you now, can't hurt you now America dopo il 68, pietre che non rotolano Montaggi per tutte e tre le notti, anche se quella di domenica sarà diversa A cura di Ciro Giorgini, 68 quotidiano con i TG del 68 montati per temi, per assonanze, per cronologie In modo diverso da notte a notte, da momento a momento E soprattutto questo dopo il 68 americano è affidato a due film, due grandi film di Robert Kramer Ice stanotte, Ice e domani Mindstones, Ice del 69, Mindstones del 75 Nel insieme formano una potentissima riflessione sulla deriva di intere generazioni americane Alle soglie tra il momento del 68 americano, che come sappiamo è molto antecedente Sempre negli anni 60, ma è nella prima parte degli anni 60 Antecedente è stato quello europeo che in realtà muore nel 68 del maggio francese E' una sorta di schiuma, di ultima onda che viene davvero dagli Stati Uniti Infrangendosi e mescolandosi con i depriti, con i cavalli di Frisia del marfeninismo, dell'ideologia E' molto pura in ogni caso la riflessione anche sull'ipotesi terroristica in Ice Così com'è automaticamente dolente domani sarà il ritorno sulle generazioni Mindstones Ice, ghiaccio, Mindstones, pietre miliari, comunque pietre Allora sembrano davvero il contrario delle pietre rotolanti di cui nello stesso 68 parlava, raccontava, guarda caso, proprio Jean Bucodat Ma ecco, stasera mi limito a dire che queste notti che finiranno con un anagramma, Marker, sono letteralmente anagrammi di tempi Come ogni momento di cinema E' il motivo che rende il cinema appassionante come oggetto storico e nello senso impossibile, sgretolante, dissolvente qualunque ipotesi di storia Il tempo in cui è stato girato, non importa dove, ma comunque automaticamente incorporando quello spazio temporale di annora Il tempo in cui si riferisce, che appunto può essere lo stesso, ma comunque è un tempo passato, anche quando si riferisce a un futuro Il tempo immediatamente compresso e identificato col tempo passato che è di ogni film fino ad oggi E' il tempo in cui lo vediamo, il suo posto presente, il posto presente di questa notte che è rimpiango Ma con la nostalgia del presente che in un film presso e santotesco e già posto e santotesco come prima della rivoluzione Si diceva, perché lui ci parlava appunto di nostalgia del presente, che è tutto quello che si può dire Della nostra o della loro società dello spettacolo, del cinema, di questo struggimento del mancarci noi stessi Buona visione